Paolo Carlini, noi siamo qui con lei per parlare di tutta una serie di cd che lei ha pubblicato. Gli ultimi due sono Fatales Fagotto e Paolo Carlini, virtuosispi contemporanei per Fagotto. Però, insomma, il lavoro fatto, i compositori incontrati sono stati decisamente tanti. Tanto lavoro, tanti compositori. Allora, iniziamo forse dall'inizio, cioè il Fagotto è uno strumento che non era particolarmente amato da chi si iscriveva, ad esempio, nei conservatori. Sappiamo che le classi di Fagotto non erano particolarmente piene, non c'erano come, ad esempio, il pianoforte che aveva non so quante cattedre di pianoforte. Quindi, ci spiega un po' come mai proprio il Fagotto? Beh, è una bellissima domanda. Effettivamente, io ho iniziato a studiare musica veramente da bambino, a sei anni, cinque, sei anni, perché la mia mamma si era resa conto che io, ascoltando la radio, individuavo attraverso gli spot pubblicitari le pubblicità attraverso l'incipit della musica. Ma veramente a volte bastava una nota o due che io individuavo la pubblicità stessa. E quindi mia mamma è rimasta un po', insomma, si è favorevolmente insospettita della cosa e quindi mi ha mandato a studiare musica. Ho iniziato, appunto, con un maestro, insomma, di chitarra. E anche lì, io dicevo, mamma, ma mi vanno giù le dita? All'epoca si ascoltavano i Beatles, erano gli anni settanta. E quindi io dico, mamma, ma io non so neanche le note che faccio, però sono giuste. Probabilmente era una questione. Quindi anche il maestro dell'epoca di chitarra era molto contento e quindi poi sono passato al pianoforte e quando è stato il momento, diciamo, di entrare in conservatorio le classi di pianoforte erano piene e sono stato indirizzato a degli strumenti alternativi come appunto o il fagotto, il corno o il violoncello. Però poi per me uno valeva l'altro all'epoca e quindi mi avevano consigliato il fagotto perché il docente era un ottimo docente. Quindi sono entrato nella classe di fagotto poi ho iniziato subito ad amare lo strumento perché avevo già i primi risultati buoni da subito e quindi ho proseguito il percorso con molto piacere. Ecco, con molto piacere e con molto successo perché è un percorso che lo ha portato ad essere primo fagotto in diverse orchestre già da giovane e quindi questo, diciamo, percorso si è mano a mano aperto verso il palco da concerto. Com'è andata questo percorso, questa strada? Beh, io ho iniziato appunto giovanissimo la professione perché al quinto anno di conservatorio ho vinto l'audizione all'Arena di Verona e quindi ho avuto l'opportunità di entrare nelle stagioni areniane e poi ho iniziato, dopo il diploma, subito a vincere le prime audizioni al Teatro dell'Opera di Roma, il concorso nell'Orchestra della Toscana l'orchestra di cui faccio ancora parte e altre collaborazioni con La Scala, Santa Cecilia, la RAI di Roma, Comunale di Bologna, Fenice. Insomma, subito sono venuti i contratti, le chiamate e quindi è stata subito un'attività molto intensa e orchestrale per quanto riguarda l'orchestra. Ecco, un'attività intensa, diciamo, molti prima e anche dopo di lei avrebbero detto va bene, sono arrivato e qui mi fermo, cioè qui ho trovato quello che cercavo e non ho bisogno di cercare avanti. Invece lei non ha fatto così, come mai? È vero, ma a me piace molto studiare, piace ancora molto studiare e soprattutto ritengo che il fagotto sia uno strumento, il fagotto, va detto, è uno strumento che è legato alla voce umana proprio per tessitura, è la stessa tessitura della voce umana per cui ha mille sfaccettature, molte caratteristiche di suono e di sonorità timbriche e poi come tutte le cose che capitano in maniera naturale riescono bene, secondo me. Quelle che capitano in maniera naturale e a me è capitato in maniera appunto naturale negli anni Ottanta una collaborazione piuttosto fitta con il compositore Silvano Bussotti che era un protagonista di quegli anni e ho lavorato molto con lui sia a livello discografico che anche a livello cameristico. Da lì il passo è stato breve per entrare appunto quasi a pieno titolo nel mondo della nuova musica ma c'è da dire che l'orchestra di cui faccio parte è un'orchestra da sempre votata alla musica contemporanea fin dalla direzione artistica di Luciano Berio nei primi anni Ottanta. Io ancora non ero in orchestra ma l'orchestra ha avuto una direzione appunto artistica di Luciano Berio molto importante proprio per una questione di assetto. Poi abbiamo avuto per moltissimi anni una direzione di Aldo Bennici e di Giorgio Battistelli fino all'anno scorso. Quindi ovviamente io nell'orchestra sono venuto a contatto con la contemporaneità internazionale sia con i compositori quindi con le musiche i vari linguaggi internazionali e anche i direttori d'orchestra specializzati. Quindi probabilmente anche questo ha favorito molto il mio interesse nella musica di oggi ma anche devo dire Luciano Berio tante volte mi aveva chiesto i multifonici di fornirgli i multifonici per le opere anche le ultime opere che ha scritto sia per il Festival di Salisburgo che per la Scala glieli ho forniti io. Quindi sono entrato proprio nel mondo della contemporaneità devo dire forse ai massimi livelli subito quindi ho esplorato da subito quel mondo che mi ha sempre affascinato e quindi è stato tutto naturale estremamente naturale. Tanti compositori si sono fatti avanti per scrivere per me già dagli anni 90 insomma quindi hanno generato subito in me ovviamente un interesse per fare quel famoso passo in più giornaliero. Ecco appunto tra questi compositori abbiamo questo CD Virtuosismi Contemporanei per Fagotto della Ema Vinci dove appunto ci sono brani che sono proprio dedicati a lei quindi brani con di Azio Corgi di Carlo Galanti di Claudio Ambrosini di Carlo Boccadoro Bombardelli Portera Panni Betta quindi brani che sono nati proprio per il suo Fagotto per lei come interprete. Allora queste collaborazioni che lei ha con questi compositori perché continua a collaborare con i compositori contemporanei sono delle collaborazioni che ovviamente conosce benissimo il suo strumento ma che le aprono anche delle nuove dimensioni che ma cui magari non aveva pensato e che il compositore la costringe ad esplorare. Sì certo il il rapporto con il compositore è fondamentale proprio nel per quanto mi riguarda nel processo proprio di nascita di un nuovo brano quindi anche proprio dall'aspetto filosofico il primo aspetto quando il compositore già ti racconta che cosa ha in mente che cosa vuol significare questo pezzo questo già è un aspetto importante poi si entra nell'aspetto invece prettamente tecnico-strumentale ed è verissimo lei ha detto una cosa giustissima cioè tante volte uno non si chiede come si potrebbe entrare in questo mondo sonoro ad esempio mi viene in mente il brano di Nicola Sani per Fagotto Soundtrack Electronic che è proprio il Fagotto che dialoga con l'elettronica certo questo pezzo è stato costruito prima attraverso proprio uno studio tra me e Sani proprio delle possibilità remotissime dello strumento quindi i pianissimi anche senza ancia ma solo con il fiato nell'esse però che possa dare origine comunque a delle sonorità importanti oppure anche tutto il lavoro che abbiamo fatto sia sui multifonici ma anche sui tremoli il tremolo nel Fagotto è un effetto importantissimo perché si può avere con un intervallo vicino ma anche con un intervallo molto distante attraverso una nota grave e una nota acuta o sovracuta quindi con Nicola Sani abbiamo fatto proprio un lavoro di questo tipo per allargare lo spettro sonoro e quindi poi Alvise Midolin ha lavorato sull'elaborazione elettronica e Sani ha scritto poi il pezzo dove io ho dovuto eseguirlo in una tempistica molto netta per quanto riguarda proprio il rapporto con l'elettronica stessa per esempio questo è stato un lavoro importantissimo per me e per il mio strumento oppure nel concerto di Ivan Fedele per Fagotto e orchestra dove Ivan Fedele ha usato anche il live electronics che interagiva tra l'orchestra e il Fagotto certo allora abbiamo parlato abbiamo accennato a diversi compositori e al suo lavoro con i compositori però lei si rapporta non solamente con diciamo la parte creativa si rapporta anche con gli studenti perché lei insegna è un docente come insegnare il Fagotto oggi ci sono stati dei cambiamenti rispetto a che ne so quando lei ha iniziato c'è qualcosa di diverso c'è molto di diverso io ho iniziato a insegnare nel 1985 era un altro mondo però mi piace molto e la ringrazio per questa domanda perché per quanto mi riguarda è cambiato tutto ma per quanto mi riguarda non è cambiato niente cioè nel senso che nella mia classe io mi comporto nello stesso modo cioè il conservatorio è cambiato perché naturalmente adesso è università della musica per cui non c'è solo lo strumento e poche altre materie come era il vecchio ordinamento ma oggi i ragazzi hanno un'offerta formativa molto ampia che a volte può andare a scapito anche diciamo della concentrazione e del tempo che uno deve passare sullo strumento ma soprattutto anche della libertà mentale il fagotto è uno strumento prettamente orchestrale e lascia pochi spazi c'è quello è l'orchestra il punto d'arrivo perché l'insegnamento io ho sempre considerato che è una parte importantissima ma deve esserci la parte pratica o concertistica ma nel caso del fagotto è comunque una parte non può essere una parte primaria perché non esiste un mercato concertistico come potrebbe essere il violino o il pianoforte io per esempio sono contentissimo ho una discreta attività solistica ma sono quelle tre quattro produzioni all'anno che sono tantissime come come fagottista solista con le orchestre quindi non è quello che conta è proprio l'attività orchestrale perché il fagotto è uno strumento d'orchestra allora io mi comporto come mi comportavo vent'anni fa prima della 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 riforma per quanto mi riguarda appunto non è cambiato il mio approccio con diciamo ecco ciò che è cambiato è forse una libertà maggiore rispetto rispetto a una volta di avere una programmazione più ampia questo sì quindi ecco una cosa che per esempio a me fa molto piacere è che di cui sono vado anche orgoglioso ma mi ritengo anche fortunato è che tantissimi ragazzi mi scelgono come insegnante quindi nella mia classe sono quasi tutti studenti che vengono da tutta Italia io insegno al conservatorio di Livorno e di Livorno in questo momento non c'è nessuno sono tutti vengono da lontano quindi con molta motivazione e quindi il tutto per me riesce più semplice per quanto riguarda proprio la motivazione che hanno i ragazzi stessi per studiare bene non so se ho risposto bene alla domanda perché ho iniziato dicendo che in realtà per me non è cambiato niente ha risposto benissimo dunque a conclusione di questa di questa nostra chiacchierata io volevo chiederle se lei sta pensando oppure sta scrivendo un manuale per suonare il fagotto so che ce ne sono diversi ma forse diciamo potrebbe aggiungere soprattutto delle cose che riguardano quelle che si chiamano le tecniche estese quindi quelle tecniche che vengono utilizzate nella musica contemporanea sì ci ho pensato tante volte è nel cassetto ma ancora non l'ho fatto perché naturalmente non si riesce a far tutto io appunto ancora ora in questo ancora adesso io sono primo fagotto nell'orchestra della Toscana in docente di conservatorio ho una discreta attività cameristica e solistica e in più incido ancora molto e quindi non ho proprio il tempo materiale però è tutto il materiale nel cassetto io ho sicuramente diciamo l'obiettivo è appena avrò un pochino più di tempo di mettere a frutto per gli altri tutti i miei diciamo tre anni di lavoro nella musica contemporanea con i più grandi compositori del nostro tempo è anche un metodo per fagotto dal punto di vista tecnico la tecnica di base la tecnica giornaliera perché questo è fondamentale per avere un bagaglio diciamo per migliorare la diciamo lo stato di salute strumentale giornaliero è molto più importante studiare la tecnica giornaliera che studiare i concerti certo lei ha perfettamente ragione soprattutto per gli strumentisti è una specie di igiene quotidiana che uno deve fare e deve avere bene allora prossimi cd è in uscita un cd con i solisti aquilani in cui io ho registrato due concerti per fagotto e orchestra uno di Marco Tutino che si intitola Medusa per fagotto e orchestra d'archi un concerto bellissimo di 25 minuti circa quindi un minutaggio molto sì molto importante e un concerto di Marcello Panni per gli 80 anni del suo compleanno che appunto ha scritto ed è in dedicato diciamo in memoria di Claudio Scimone lui era il maestro Panni era molto amico del maestro Scimone e ha voluto dedicare di questo questo brano che appunto abbiamo inciso recentemente e che è in uscita a breve molto probabilmente prima di Natale o al massimo a gennaio e poi un altro cd che ho registrato tre anni fa con il violinista Gabriele Pieranunzi sui duo concertanti di Niccolò Paganini per Violino e fagotto sono tre duo concertanti di circa 20 minuti ciascuno quindi un minutaggio anche questo molto importante di appunto originali di Niccolò Paganini però una bella una bella diciamo una bella scelta ecco quindi noi potremmo risentirla anche prima quando usciranno questi questi cd così ne riparliamo con molto piacere la ringrazio molto per questa intervista grazie grazie a lei arrivederci grazie a tutti grazie a tutti